buongiorno oggi vi insegnerò come fare degli ottimi bignè svelandovi tutti i segreti che ho imparato tanti anni fa nella pasticceria dell'hotel for season di milano sono laura quintavalle chef del catering cook e se mi seguirete passo passo faremo assieme dei bignè leggeri come nuvolette perfetti per essere riempiti con creme dolci o se preferite con pate salati io questa volta ho scelto della semplice panna montata con un impasto faremo 50 bignè di media grandezza o circa 100 piccoli primo segreto il peso dell'acqua deve sempre corrispondere alla somma del peso del burro più quello della farina setacciamo la farina mettiamo in una pentola 500 grammi di acqua senza cloro e 200 grammi di burro a pezzetti aggiungiamo un cucchiaino colmo di sale che sono circa 10 grammi facciamo sciogliere sul fuoco attenzione a questo passaggio quando l'acqua bolle buttiamo in un colpo solo la farina e cominciamo a rimestare per almeno 5 minuti si formerà una specie di polentina che sarà pronta quando avrà formato una patina sulla pentola è fondamentale aggiungere un nuovo alla volta secondo segreto l'impasto sarà perfetto se cadrà dalla spatola a forma triangolare prepariamo la sacca poche inserendo all'interno il beccuccio e per facilitarne il riempimento mettiamola in un contenitore capiente mettiamo poco impasto sotto la carta da forno in modo da non far muovere il foglio quando faremo i bignè se non abbiamo una sacca poche e la bocchetta per fare i bignè possiamo usare due cucchiai sempre inumiditi perché l'impasto è molto appiccicoso con un dito leggermente bagnato schiacciamo le puntine dell'impasto altrimenti nella cottura tenderebbero a bruciarsi forno statico a 220 gradi per 25 minuti senza mai aprirlo dopo 25 minuti aprite velocemente il forno e straite un bignè se non è perfettamente cotto nel giro di un minuto si affloscerà in tal caso continuate ancora a cuocere per altri 5 minuti e riprovate il modo più semplice per farcirli è tagliarli a metà oppure si può fare un buco sul fondo e poi inserire una sacca poche con beccuccio i bignè si possono congelare meglio in doppio sacchetto e si scongelano un'ora prima di riempirli vi è piaciuto? mettete un like! arrivederci alla prossima ricetta!